Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo su un video di Minecraft Oggi niente live ragazzoli, perché sabato e sabato non faccio le live, però facciamo un video, recupero con un video Cosa facciamo in questo video? Allora, ieri abbiamo fatto la farm di polli, o meglio stiamo creando il nostro esercito di polli infinito Cosa facciamo oggi per completare questa situazione? Faremo una mega pixel art qua sopra di un pollo enorme Allora ragazzoli, non la farò con i colori giusti del pollo, perché non avevo il tempo di recuperare tutto il calcestruzzo colorato La faremo artistica, così, proprio al nostro piacimento Allora, mi sono creato tutto il materiale qui, più o meno, già ce l'avevo da parte, ora recuperiamo l'altro Recuperiamo tutto quanto questo materiale, questa canna da pesca al momento non ci interessa E iniziamo la costruzione, allora, prima cosa che ci serve, ci serve mettere l'area in aria Raga, è molta fantasia, quindi accettate quello che stiamo a fare Allora, mi sono messo un attimino le misure come prova, quindi iniziamo la costruzione Dobbiamo fare uno di questi e uno di questi Queste saranno le zampe della nostra oca, papera, quello che cazzarola sono queste cose E gallo, come potete chiamarle chiamate Dobbiamo salire di 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 Lanciamoci, ora moriamo malamente, no 1, 2, 3, 4 e 5 Perfetto, abbiamo fatto le nostre gambe brutte, forti del nostro anatroccolo Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E so contare, abbiamo scoperto che so contare Ok, queste sono le nostre, la nostra base delle gambe del nostro gallina, pulcina Quello che è, ora, la parte complicata Allediamo questo e prendiamo il pietrisco La faremo in pietrisco, raga, sarà molto personalizzata questa specie di gallo terribile Prendiamo un attimino di terra, così riusciamo a salire Allora, il tutorial diceva di partire di qua Quindi anche noi partiremo di qua Però, la terra, dove è la terra? Ok, saliamo, 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 saliamo Perfetto, allora mettiamo un primo blocco qui Poi saliamo, mettiamo un altro blocco qui Ok, e poi andiamo avanti di 5 Aiuto Ok, quindi, se non cado 1, 2, 3, 4 e 5 Perfetto, stessa cosa dobbiamo farla Sembra piccolina Vabbè, comunque ci basterà Da questa parte 1, 2, 3, 4 e 5 Di qua andiamo di 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 E sto sbagliando i calcoli forse No, no, dobbiamo girare di qua Dobbiamo girare di qua Non me lo ricordo Sì, dobbiamo girare di qua Quindi è così E poi 1, 2, 3, 4 e 5 Perfetto E qui siamo in linea col primo Quindi diciamo questa è la base della nostra gallina gigante Ora, di qua dobbiamo salire di 5 No, non devi tirare il blocco scemo Devi salire di 5 Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 Perfetto Stessa cosa dagli altri lati Andiamoci così Così evitiamo di far cagate Tanto dobbiamo chiuderla tutta Sto pollo brutto lo dobbiamo chiudere tutto Ci siamo qui? No, ancora no Un altro? Ok, dovremmo esserci adesso forse Continuiamo il giro 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok E andiamo di qua 1, se cado sono morto Raga, se cado sono un uomo morto Allora Il problema è che ci dobbiamo lanciare nel vuoto Nel blu dipinto di blu Riesco a centrare questo? Perfetto Ok Ci siamo fatti male Ma non ci siamo fatti tanto male Qua chiudiamo Perché tanto dovremmo chiudere tutto quanto Chiudiamo pure di qua Ok Sì, tanto qui sotto dobbiamo chiudere tutto Se no Se vede pure il sotto della gallina Non è una cosa bellissima Quindi chiudiamolo Chiudiamolo Poi mettiamo una bella torcia così E il primo stack di pietra se n'è andata raga Va bene Dovremmo avere materiale sufficiente per riuscire a fare tutto Chiudiamo anche il dietro qui della gallina Ciappa la gallina Ciappa la gallina Ciappa la gallina Cia 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 Allora Non farò tagli raga così Voi beccate tutto il video paro paro Come se fossero live E quindi stiamo in compagnia Il tempo dovuto Allora Dai così, dai così Stiamo per finire No Tu qui no Cortesemente Tu sei uno spreco di blocco Dai così Dai così Dai, dai Blocco su blocco Blocco su blocco E completiamo l'obiettivo Allora Dai così Qui dobbiamo salire di 5 Però ci saliamo dopo così Posso tornare sul tetto della gallina Sul tetto della gallina Non si può sentire Però va bene Allora Dai così, dai così, dai così Altro stack finito Riuscirà il nostro errore a completare Dov'è? Dove sono? Riesci Ah, qui dobbiamo fare Occhio che se caschi mori Inzio Eh, sì Ce la faccio Ce la faccio Raga, ce la faccio Ce la faccio Dai Dai così, dai così Dai così, dai così Un passettino indietro Ok Ci mettiamo al limite Perfetto Saliamo, saliamo, saliamo Aia Ho sbattuto la testa Saliamo, saliamo Saliamo, saliamo Saliamo Ok Abbiamo finito il corpo della gallina Che qui dobbiamo anche andare a chiudere Chiudi, 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 chiudi Mi sono dimenticato un blocco Raga Ecco, vedete Perché se lo facciamo tutto di pietra Effettivamente poi non si riconosce più Un cacchio di questa gallina Se invece le ali le facciamo di un altro colore Potrebbe essere una cosa carina Ok Questo in teoria è il corpo della nostra gallina Le ali le faremo dopo, raga Le ali le faremo dopo Ora Continuiamo la costruzione Ora dobbiamo fare la testa La testa la dobbiamo fare facendo Uno, due, tre e quattro Ok Di questi dobbiamo salire di quattro Giusto Sì, sì, sì Uno, due, tre Uno Due Sì, dobbiamo salire di un altro Ok Sto seguendo il tutorial La raga E penso di riuscire a non far cacate Seguendo il tutorial Allora Di qua dobbiamo uscire di due Ovvero Uno E due Perfetto Uno E due Ed è finito un altro stack di pietra Allora Recuperiamo un altro sacchettino di pietra Perfetto Andiamo di qua Uno e due Andiamo di qua Uno e due Ma quanto è bello il portale da tutto infuocato Bellissimo Allora Ora dobbiamo scendere giù E non è per niente una cosa facile Allora Scendiamo prima di qua Ok E poi scendiamo di qua Sperando di non morire Muoio secondo voi raga Aspettate Mangiamo un pesce Mangiamo un pesce Così recuperiamo i cuori Secondo voi muoio? Il suggeritore mi dice di sì Allora noi Siccome siamo esperti Usiamo un bel secchio d'acqua Lo mettiamo qui Che recupereremo poi prossimamente Così faccio finta Che la gallina sta facendo la pipì E noi scendiamo tranquillamente con l'acqua Se non si bagga tutto il gioco Ci riusciamo Perfetto Il secchio lo recupereremo prossimamente Dovrei avere del pollo cotto Ok Raga La gallina ha preso forma È molto brutta È una gran cacata Però l'asta che è sempre quella ragazzoli L'asta che è sempre quella Delle mie costruzioni Di questa serie Se non fa cacare Non ci piace Allora Io devo tornare un attimo a casa Aia Ho paura a girarmi A vedere quel mostro Che si vede da casa nostra Va bene però Dai Caratteristico Dico Voi ce l'avete un'altra serie In cui c'è una gallina Che non è una gallina Ma è un mostro gigante Che sta conquistando il mondo Ce l'avete voi Ditemelo voi Allora Recuperiamo questi Mi basterà questa diorite Non lo so 23 Aspettate Qua dovrei averne nell'altra Dovrei avere un altro bocchino di diorite Dimmi che ce l'ho Ok E poi ne avevo visto Qualcun altro poco Vicino La zona Della Dove c'erano i polli Prima Recuperiamo quella diorite Allora Via 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 Non guardo Non guardo Occhi bassi E camminare Zitti Senza affiatare Raga Non guardiamo Quella cosa brutta Che si Che si innalza Dalla nostra collina Via Senza Senza guardare Via Occhi bassi Andiamo a recuperare Troppo bassi Gli occhi Raga Non guardiamo Che ho paura Vedo delle zampe In lontananza Non facciamo finta di niente Allora Allora Vero che sta calando la notte Va bene Va bene Allora qui avevo visto Eccola qua Perfetto Recuperiamo questa diorite Va bene Dovrebbe bastarci Questa per Per completare Un discorso di ali Tra l'altro Sta anche calando la notte Io la recupero tutta Raga Perché nel dubbio Meglio avercela Che meglio Che dire Devo riscendere A riprenderla Si sta decisamente Calando la notte Dobbiamo tornare a casa A dormire Dobbiamo tornare a casa A dormire E anche velocement E anche velocement Mi basta Quando ne ho preso 55 Facciamo un altro 56 E siamo a posto Andiamo a casa Velocemente a dormire Sono diventati 57 Perché hanno beccato un altro Sono 58 58 Sì ok Veloce a casa a dormire Senta guardare il pollo brutto Via 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 Veloce a casa a dormire Via 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 Veloce come il vento Veloce come il vento Bonsai Astag cose a caso Ricordatevi sempre l'astag Ragazzoli Astag cose a caso Commentate Con parole a caso Che vi vengano Astag pollo brutto Astag pollo assassino Astag Ho paura Astag i mostri I nuovi mostri Vabbè Stiamo delirando Come al solito In ogni video Che facciamo Però va bene Allora Dormiamo Da qua si intravede Il polo raga Quando ci corichiamo Si intravede Quindi prepariamoci Agli incubi notturni Praticamente Perché Si vede Allora Usciamo Via 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 Andiamo 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 Allora 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 Mettiamo Normalmente La terra Davanti Al pollo O pseudo Pollo No 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 Creeper Bastardo Creeper Ci stava A far l'agguato Bastardo Non puoi partecipare Ai video Non puoi partecipare Né ai video Né alle live Quindi vedi Di levarti alle scatole Oh Ok Vabbè L'abbiamo visto Raga L'abbiamo visto Che cos'è Un pavone gigante Mamma mia Che cosa brutta Raga Mamma Che cosa brutta Va bene Viva la fantasia Viva la fantasia Apriamo la fantasia Raga Allora Dove devo salire Io Io dovrei salire Forse qui Ok Proviamo a salire Qui Vai Sali 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 Sbatto Sulla faccia Del pollo No Ok Abbiamo sbagliato Devo andare Un poco più indietro Va bene Allora Allontaniamoci Un attimino Così Perfetto E rito Continuiamo a salire Ci siamo Qua sopra Sì Ok Siamo anche saliti Allora Scendiamo Un attimino Allora Scendiamo Un attimino Mettiamo I vari blocchi Là dietro Quindi qui Mi serve Completarlo tutto Così Questi così Questi due Sono i nostri occhi Del pollo posseduto Ne mettiamo Uno qui E uno Là come ci arriva Shift Lì Ok Ritorniamo in posizione Cortesemente Rompi questi blocchi Questo Possiamo Per romperlo Ok Mettiamo Ancora Uno Due Di questo Dobbiamo scendere Di cinque Quindi ne abbiamo Fatti Uno Due Tre Tre Poi devo metterlo Anche da dietro Tre Non scendere Di un altro Però se Uscendo di qua Muoio Scendiamo con calma Scendiamo con calma Scendiamo con calma Levo questo Levo questo Mamma Che me la sono vista Brutta Allora Siamo calmi Dobbiamo risalire Un poco più qua Quindi facciamo così La testa terra La dobbiamo levare Allora Di quanto siamo scesi Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro No Giusto Così Però solamente Dovevo mettere Sono dimenticati a mettere Allora Abbiamo questa terra Che però C'è la pala C'è la pala Quindi questa Si può levare pure Dobbiamo metterla qua dietro Uno Due Così Chiudiamo tutto E poi dobbiamo scendere di un altro Così 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 Di qua Torniamo indietro Mettiamo Uno Due Tre E Quattro Ok Fatto questo Noi dobbiamo Allargarci di qua Dal lato della terra Uno E due Perfetto Saliamo Sotto gli occhi Dobbiamo andare a recuperare Questi di qua Che sono i blocchi di arenaria Incisa E ci facciamo il nostro bellissimo becco Del paperotto Inguardabile Che è veramente brutto forte raga Dico io L'avete mai visto un paperotto così brutto? No Perfetto Solo nel mio canale Potevate vedere una cosa così Obropriosa Recuperiamo i blocchi Con i blocchi di redstone Facciamo Il Il colletto qua Perfetto Allora Fatto questo Senza ovviamente Guardare questo schifo Che c'è alle mie spalle Io ora così casco? No Allora Mi dobbiamo rimettere qua Questi si possono evare tutti Scendiamo In maniera molto veloce E rapida In dolore Risaliamo con l'acqua Da dove siamo scesi prima Ok Recuperiamo pure questi Dai Recupero anche questi Ok Tutta la terra recuperata? Sì Perfetto Risaliamo qua dall'acqua Rapido 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 Ok Recuperiamo questo secchiello Perché però l'acqua di qua non ci può stare Recuperiamo il secchiello Ho detto Grazie Gentilissimo Gentilissimo Mangiamo E E che sto salito a fare io? Ma non dovevo salire Io devo farlo dal lato Ma porca Facciamo una cosa esperta Raga Facciamo una cosa esperta Guardate come muoio Guardate come muoio Guardate come muoio No Non sono morto Volevo mettere l'acqua ma non ci sono riuscito Stavo per morire veramente Va bene Non fa niente Allora Allora Di qua Mamma che cosa brutta Mamma che cosa brutta Che cosa brutta Che ho fatto Va bene Va bene E' bello anche per questo E' bello Viva la fantasia ragazzi Allora Ho portato la diorite Almeno gli diamo un tocco di colore A questo proprio E dobbiamo fare Allora 1 2 3 4 E 5 Scendere i 3 1 2 3 E poi Chiudere 1 2 3 3 Ciò riesco a mettere lì Lì Perfetto Troppo avanti Raga Siamo troppo avanti Io però ho sbagliato Se per fare una cosa Se io qui non ci metto una torcia I mostri me li ritrovo a casa mia Praticamente Quindi sposto un attimo questo Avremo il pollo illuminato Praticamente Vabbè Non fa nulla Non fa nulla Metti anche una lì Grazie Ok Così dovremmo essere belli Coperti e protetti dai mostri Scendiamo Infatti è un brutto anatroccolo Mi suggeriscono dalla regina Un brutto anatroccolo È vero Un brutto anatroccolo Sarebbe già un passo avanti Comunque Allora Prima che cale il sole Voglio vedere questo schifo Prima che cale il sole Cortesemente Allora Saliamo di qua Ok La diorite E dobbiamo fare Allora Dobbiamo fare Uno Due Tre Quattro E cinque Poi uno Due Tre Uno Due Tre Così Questo di qua Questo di qua E poi chiudiamo così Perfetto Saliamo sopra Per andare a mettere Un'altra torcia Per sicurezza La mettiamo qui Dove l'avevamo messo? Lì Ne mettiamo una qui E una qui A posto così Il nostro anatroccolo È bello che è illuminato Va bene ragazzoli La pixel art Più brutta Della storia L'abbiamo fatta Ragazzi Siete pronti a vedere Questo schifo Attenzione Tre Due No Sono caduto Dentro i polli Mannaggia Tre Due Uno No Devi chiudere Mamma mia Tre Due Uno Papapam Mamma Che cosa brutta Signori miei Che cosa brutta Dai Vabbè Gli occhi Dobbiamo andare Un po' più lontano Per vedere Vediamo se da lontano Si vede Dai Dai Si intravede Si capisce Che è un pollo Dai raga Si capisce Che è un pollo Dai Più o meno Si capisce Dai Accettabile Accettabile Va bene Ragazzoli Allora La cagata Per la giornata L'abbiamo fatta Io spero Che il video Vi sia passuto Abbiamo completato La farm di polli Con un mega pollo Gigante che non è per niente Un pollo È qualcosa di Parzialmente modificato Geneticamente modificato Detto questo Vi ringrazio per i commenti Per i like E per la compagnia Noi ci vediamo più tardi Con un prossimo video Sul canale Bella raga Ciao